La quattordicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato l'eccellenza del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti, punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Restiamo nella categoria innovazione e passiamo a CEO dell'anno Innovazione Privacy e Sicurezza Informatica. Questa volta il premio va a Gianluca Lombardi di GL Consulting. Per la sua passione e dedizione per il mondo della privacy e dell'informatica, ambiti sviscerati con grande professionalità che gli hanno consentito di aggiungere un riconosciuto grado di expertise. Come consulente e valutatore privacy ed esperto di cyber security. Complimenti. Buonasera, benvenuti e complimenti. Siamo con l'ingegnere Gianluca Lombardi, amministratore unico della GL Consulting, azienda leader nel settore della consulenza in tema di privacy, cyber security e compliance aziendale in generale. Ci descriverebbe i punti di forza della vostra attività che vi hanno permesso di raggiungere i risultati ottenuti? Sì, guarda, allora dal punto di vista della nostra azienda i punti di forza principali possono riassumersi fondamentalmente nei seguenti. In primo luogo la capacità di mettere assieme due mondi che sono tra di loro spesso lontani in competizione, vale a dire il mondo della tecnologia e il mondo legale. Normalmente quando si è piccoli e si decide il proprio percorso culturale, chi va in una direzione dell'area legal difficilmente ha le stesse passioni e gli stessi interessi di chi si appassiona invece della parte informatica. La nostra capacità è stata quella di creare un ponte tra questi due mondi. Questo ponte avviene tutti i giorni nell'attività che noi facciamo, portando avanti organizzazioni aziendali che tengono conto delle norme presenti, grazie agli avvocati che abbiamo all'interno dell'azienda, ma che sappiano interpretarle e metterle a terra nelle realtà sempre più digitali delle aziende del nostro Paese. Questa sera le è stato consegnato un prestigioso riconoscimento per professionista dell'anno, privacy e sicurezza informatica. Un commento sul premio ricevuto e sui traguardi raggiunti? Beh, intanto è un piacere essere premiati, questo lo è sempre, è un po' il frutto del lavoro di ormai 30 anni di professione. La nostra attività nascono nel lontano 97, quindi nel secolo, nel millennio scorso e oggi ci portano a lavorare in tantissimi settori con aziende anche quotate in borsa e questo è un premio che in qualche modo testimonia questo percorso e le attività che abbiamo svolto con dedizione e passione in tutti questi anni. Ingegner Lombardi, quali sono i progetti e le sfide future della GL Consulting? Allora, la GL Consulting ha deciso di allargare il proprio scenario di attività. Noi siamo sicuramente riconosciuti sul mercato per quelli che sono le nostre principali aree di competenza, il mondo della privacy, il mondo delle certificazioni ISO, la cyber security, la 231, la sicurezza dei luoghi di lavoro. Ma proprio in questi giorni stiamo lanciando un nuovo progetto legato all'intelligenza artificiale, si chiamerà proprio mondo.ia.it e sarà un portale dedicato a questa nuova frontiera legata all'intelligenza artificiale che avrà delle norme, quello che è il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, avrà delle certificazioni, la ISO 42001 per questo mondo e avrà delle nuove sfide che noi intendiamo affrontare insieme ai nostri clienti e già ne abbiamo su questo settore per portarli a testimoniare i loro sistemi di intelligenza artificiale che siano in linea con le norme e anche certificabili.